Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, come si presenta la città di Torre del Greco nel secondo giorno dall'entrata in vigore delle nuove misure restrittive che hanno visto la campagna diventare zona rossa. Con le nostre telecamere abbiamo percorso il centro cittadino e proprio a Torre del Greco boom di contagi nell'ultimo fine settimana. I positivi registrati tra sabato e domenica sono 198. Cosa si può fare e cosa non si può fare per le regioni che si trovano nella zona rossa? Ribadiamo quanto previsto dal governo. E proprio De Luca ha fatto un duro attacco al governo. Ieri sera è intervenuto nella trasmissione sul Rai 3 da Fazio. Ha scelto di seguire il contagio invece di prevenirlo. Spazio anche alla cronaca con il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in provincia di Napoli. Non sono mancate le sanzioni. In chiusura lo sport con la Turris, pareggio casalingo nel derby con la Juve Stabbia. Questo è molto altro nel nostro Tg. Guardiamo i servizi. Zona rossa a Torre del Greco e le strade tornano deserte. Oggi è il secondo giorno di misure più restrittive su tutta la nostra regione. Il centro storico e la città del Corallo risulta profondamente segnato dalle chiusure. Le vie dello shopping appaiono abbandonate come in primavera. Fra le serrande abbassate pochi sono i negozi aperti, prevalentemente alimentari. In alcuni casi i proprietari hanno svuotato anche le vetrine prima di chiudere i battenti. Secondo giorno di zona rossa qui a Torre del Greco. Siamo a Salvatornoto, in tarda mattinata, un orario in cui questa strada è solitamente frequentata da cittadini che vengono qui per lo shopping. Oggi questo tratto di strada, come tutto il centro di Torre del Greco, appare deserto. Sono aperte salumerie, sono aperti i negozi di alimentari, ma per il resto tutta la strada è vuota. I bar illuminati, ma baricati con piante ed altri ostacoli per mantenere solo il servizio di asporto. Alcuni non resteranno aperti nemmeno così. Troppe spese per consegnare solo qualche caffè, ci hanno spiegato. La situazione è la stessa anche all'incrocio fra via Roma e via Vittorio Vento. Luogo principale della città, il centro vero e proprio. Spesso teatro di assembramenti negli ultimi mesi. Ora, come potete vedere, è deserto anche qui. Le persone in strada sono poche e si affrettano per tornare a casa con le buste della spesa. Qualche volante percorre il centro, ma non si assiste, per ora, ai posti di blocco duri dei mesi scorsi. I torrissi sembrano, quindi, aver recepito le nuove chiusure con una rassegnata diligenza. Boom di positivi nel Vesuviano. Il numero di contagi continua a salire nella città di Torre del Greco, dove si registra il 95% di positività sui 120 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Sono 113 positivi al Covid-19, tutti in forma sintomatica. Numeri vertiginosi che si sommano agli 85 positivi riscontrati sabato. Solo nel weekend, quindi, il bilancio cittadino si è aggravato con 198 cittadini contagiati ed un decesso, un anziano di 92 anni. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 912, di cui 896 in isolamento domiciliare e 16 sotto regime ospedaliero. 13 i concittadini che hanno perso la vita in questa seconda ondata pandemica. Nella città di Portici si registra un lieve miglioramento della curva di contagi. Registrati 62 nuovi positivi nei giorni 11, 12 e 13 novembre, con una percentuale del 7,87% sui tamponi effettuati. Numeri incoraggianti che attestano una media di 20 contagi al giorno nella scorsa settimana, con il numero di guariti che supera quello dei nuovi positivi garantisce il sindaco Enzo Cuomo. Numeri ancora preoccupanti nella città di Castellammare di Stabbia, registrati il 14 novembre. Sui 376 tamponi eseguiti, 78 nuovi contagiati, di cui 22 presentano sintomi lievi. Il sindaco sottolinea la presenza di un bambino di 3 anni tra i nuovi positivi registrati e 4 ragazzi tra i 12 e 17 anni. Sono 22 le persone guarite. Cordoglio del primo cittadino per la scomparsa, sempre a causa del Covid, di Ciro Irollo, decano degli albergatori stabbiesi. A San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zinno piange una ex dipendente comunale scomparsa a causa del Covid-19 nella giornata di ieri. Si registra un ulteriore aumento dei decessi, che spingono il sindaco verso una nuova ordinanza. I decessi degli ultimi giorni, insieme all'alto numero di contagiati in città, mi spingono a prendere ulteriori misure per provare a frenare il contagio. Domani firmerò una nuova ordinanza, sentito il centro operativo comunale, che al momento è in fase di redazione. Sale la preoccupazione del primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Escione. Registrati 211 nuovi casi, 21 guarigioni e due decessi negli ultimi 20 giorni. Il sindaco, inoltre, ha firmato un nuovo provvedimento che limiterà gli assembramenti nelle zone più frequentate della città. Campania in zona russa. Dopo l'ordinanza, firmata venerdì sera dal ministro della Salute Speranza, la campania è passata direttamente dalla fascia di rischio minore, la gialla, a quella di rischio maggiore, la zona rossa. Una reazione all'aumento vertiginoso dei positivi nell'ultima settimana, alle drammatiche immagini provenienti dai pronti soccorsi invasi da ricoveri, e a quelle del lungomare di Napoli, pietra dello scandalo per gli assembramenti fuori controllo di domenica. Queste le limitazioni aggiuntive in vigore da ieri nella nostra regione. Nelle zone rosse è vietato ogni spostamento, anche all'interno dello stesso comune, consentiti solo quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In ogni caso, se fermati alle forze dell'ordine, bisognerà mostrare l'autocertificazione o chiedere di compilarla sul posto. I negozi sono chiusi, mentre restano aperti i supermercati, esercizi in cui vengono venduti i beni alimentari o di necessità. I negozi aperti sono contenuti in una lista, con tutte le voci specifiche. Tra questi ci sono anche edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I negozi chiusi possono comunque effettuare attività di consegna a domicilio, purché senza riaprire i locali. Sulla base di queste classificazioni, sono in realtà ben pochi gli esercizi costretti ad abbassare riserrande. Negozi di abbigliamento, salvo che non vendano abbigliamento per bambini. In tal caso, infatti, possono restare aperti i centri estetici e pochi altri. I centri cittadini non appaiono quindi spettrali come nel lockdown di primavera. Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie sono sempre chiusi, ma possono stare aperti per l'attività da sporto dalle 5 alle 22. La consegna a domicilio è sempre consentita. I servizi di ristorazione restano aperti solamente negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio lungo le autostrade. Sono ammesse le passeggiate, ma solo vicino all'abitazione, consentita l'attività motoria, sempre vicino alla propria abituazione, e in forma individuale, rispettando la distanza di un metro e indossando la mascherina. La didattica in presenza è ammessa solamente per le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media. Didattica a distanza, invece, per la seconda e terza media è per tutte le scuole superiori, chiuse anche le università. Il presidente della regione, De Luca, aveva fermato la didattica in presenza anche per le classi dove era consentita. Tuttavia, nel weekend, il governatore ha comunicato che le attività in presenza dei servizi dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno al 24 novembre anche in Campania. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, si chiede di lavorare il più possibile a distanza. È infatti consigliato ricorrere al lavoro agile, se possibile, o soffrire di ferie e congedi. Nulla riguarda i libri professionisti, che potranno, quindi, continuare la loro attività senza limitazioni. Non sono permesse le fiere, i convegni e neanche gli eventi a loro assimilati, come i mercatini di Natale, chiusi musei e sospese le mostre, chiusura anche per teatri e cinema. Le misure dovrebbero durare almeno due settimane, questo il tempo minimo in cui una regione deve restare nella fascia di rischio alta per ottenere qualche miglioramento dei dati epidemiologici. La speranza di tutti è che tale restrizioni possano diventare un ultimo sacrificio per riuscire a superare la fase critica per le festività natalizie. Il governo, infatti, dovrebbe essere già al lavoro per le misure da adottare in vista del Natale, più blande e permissive per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Nuovo intervento del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a che tempo che fa. Il governatore è stato, per la terza volta, ospitato sul reitre nel programma di Fabio Fazio per commentare il passaggio della sua regione in zona rossa. Ovviamente, De Luca non ha perso l'occasione per sfogarsi. Nel corso del collegamento ha lanciato svariate critiche al governo. Per la verità, io avevo proposto di mettere in zona rossa tutta l'Italia nel mese di ottobre. È arrivata questa decisione per la Campania dopo alcune immagini che abbiamo visto tutti quanti domenica scorsa del lungomare di Napoli, totalmente fuori controllo. È arrivata in tutta Italia un'immagine assolutamente intollerabile in un paese nel quale si fa di tutto per contenere il contagio. Potevamo fare, due mesi fa, due scelte diverse. O la scelta della prevenzione, cioè anticipare l'esplosione del contagio, o la scelta di seguire il contagio. Il governo ha fatto questa seconda scelta, cioè prendere misure parziali a mano a mano che cresceva il contagio. La mia opinione è che la scelta del governo è stata una scelta sbagliata per due ragioni. La prima perché se devi fare un lavoro in prevenzione devi intervenire prima. Dunque è stata una misura, una linea non efficace dal punto di vista del freno al contagio. Per De Luca, la zona rossa non è dipesa da un reale pericolo, ma da un attacco mediatico subito alla Campania, volto a screditare quanto fatto per la sanità. Noi eravamo in zona gialla martedì. Nel giro di 72 ore siamo arrivati in zona rossa, niente di scomolgente, ma sarebbe bene che il Ministero della Salute dicesse che cosa è cambiato in 72 ore, perché o non avevano letto i dati martedì, o non li hanno letti venerdì, oppure c'è una terza ipotesi, di fronte a un'ondata di sciacallaggio mediatico e politico il governo non ha retto e ha deciso di fare quella scelta. Fazio ha fatto anche notare al governatore la drammatica situazione dei pronto soccorso, ricordando anche il triste episodio dell'uomo morto nel bagno del Cardarelli. Devo ricordare a tutti quanti che il 17 giugno di quest'anno c'è stato un morto in un ospedale di Milano, non se ne è accorto nessuno, era morto in bagno anche lì. Il direttore generale ha fatto l'esposto alla Procura della Repubblica, si faranno tutti gli accertamenti, si individueranno tutte le cause di quella morte, quello che è indegno e animalesco e che quando c'è un deceduto per terra ci sia qualcuno che ha lo stomaco di girare un video e di postarlo sui social e poi di scapparsene dall'ospedale senza il parere dei medici. Sempre sull'emergenza ospedali il presidente De Luca ha ricordato quanto la regione sta facendo nonostante la carenza di personale ed il carico maggiore rispetto ad altri territori. Noi stiamo combattendo a mani nude. La regione Campania, lo ricordo, guardiamo la regione più virtuosa del nord che è il Veneto. La regione Campania rispetto al Veneto che ha quasi un milione di abitanti in meno della Campania ha 16.000 dipendenti in meno. Rispetto all'Emilia e il Piemonte che hanno un milione e mezzo di abitanti in meno di noi abbiamo 15.000 dipendenti in meno. Rispetto alla Lombardia 60.000 dipendenti in meno. Stiamo combattendo a mani nude e in queste condizioni abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo raddoppiato le terapie intensive. Oggi abbiamo un tasso di occupazione che è sotto il 30%. Abbiamo il 50% dei posti letto in ospedale liberi. Abbiamo ancora oggi il tasso di morte Covid più basso d'Italia. Abbiamo prodotto risultati straordinari che meritano rispetto. Duro l'attacco al ministro Di Maio e soprattutto contro il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che il governatore ha deciso di descrivere con una parabola. Rinussa parlando di quelli che cercano di farsi pubblicità essendo delle nullità diceva che c'è la lumachella della vanagloria questa è la poesia. La lumachella della vanagloria che era strisciata sopra un obelisco guardò la bava e disse già è certo che lascerò un'impronta nella storia. Cioè ci sono delle nullità che pensano di farsi pubblicità litigando con me. Io ho tempo da perdere. Non ne ho. Non è mancato nemmeno l'ormai tradizionale siparietto comico confazio una tradizione che prosegue da quando De Luca definì il conduttore un fratacchione. Mi dia una benedizione perché ha capito in che contesto lavoro. Ma scherza? La do ovviamente in quanto fratac a Robin Hood o a Sirbis. Non ho capito ancora questo, qual è il suo ruolo però lo capiremo nelle prossime puntate. Intanto, benedico, il mio è un ruolo semplice di un uomo libero che non ha padroni e che cerca di fare il proprio dovere per tutelare la propria comunità. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana nel delicato passaggio della campagna da zona gialla a zona rossa il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale, tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 639 persone e 124 attività commerciali 26 le sanzioni complessive. In particolare, il gruppo pronto impiego di Napoli ha sanzionato i titolari di due caffetterie nel quartiere Soccavo poiché non esponevano all'esterno il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi nel locale e 5 persone fra i quartieri di Positipo, Chiaia e la zona Porto che non hanno fornito alcuna giustificazione per la loro sortita. Gli stessi baschi verdi hanno sanzionato nel rione Traiano due soggetti a bordo di un'auto per violazione al collice della strada e poiché erano sprovvisti di mascherine. Il secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli ha sequestrato in un negozio di San Giovanni a Teduccio gestito da un cittadino di origine cinese oltre 10.000 mascherine 1.200 occhiali protettivi 920 visiere 135 termoscanner 2.454 accessori di ortopedia e 804 colle stick tutta la merce era priva della marcatura C di conformità e delle indicazioni in lingua italiana. Lo stesso reparto nel quartiere San Ferdinando e nella zona Porto ha sanzionato rispettivamente il titolare di un pub e un dipendente in nero di un bar poiché non indossavano la mascherina. Pareggio 1-1 tra Turris e U.S. Tabbia in un derby che mancava in campionato da più di 20 anni per via delle alterne fortune che hanno caratterizzato le ultime stagioni delle due squadre con i Coralini a sgomitare sui campi impolverati delle categorie direttantistiche e le Vespe che invece hanno vissuto il miglior periodo della loro storia disputando diversi campionati di Serie B. A partire forte sono gli ospiti che trovano subito il vantaggio con Codromatz il difensore gialloblu e il più lesto ha colpito il pallone di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I Coralini non trovano spazio e non si rendono mai pericolosi anzi la Juve Stabia ad andare vicino al pareggio con Scacca Barozzi ma Abagnale compie un'ottima uscita ed avita il peggio. Nella ripresa è subito Turris e Rainone stavolta a colpire di testa e siglare il pareggio con un gol fotocopia di quello degli Stabiesi. Il secondo tempo offre poche altre emozioni con le due squadre che non corrono pericolo in difesa a parte un solo intervento in tuffo di Abagnale. Un altro pareggio quindi dopo quello di Foggia per gli uomini di Fabiano che così tornano a fare punti in casa dopo due sconfitte mentre la Juve Stabia non sfata il Tabuliguri dove le Vespie non hanno mai vinto. Appuntamento a domenica prossima per i Coralini che affronteranno la difficile trasferta al Massimino di Catania. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484 Grazie a tutti per la cortese attenzione e arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Grazie a tutti.